L'A4 è un Caterpillar da 15 totellate 15 totellate, vogliamo fare un applauso ad Armando che adesso vi farà vedere cosa si può fare con un pezzo così pesante e davvero poco versante guardatelo qua, allora grazie allora avete problemi di spazio a caso, giardino stretto dovete metterlo a posto Armando viene, su commissione, entra a due ruote, non ve ne accorgete neanche quindi naturalmente per i cartelli più piccoli ha il Caterpillar il Caterpillar più verino, poi lo si metto piccolo 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 va bene, grande Armando intanto ce lo teniamo lì sullo sfondo Armando vi raccontiamo anche un po' di cose perché Radio DJ è presente al Motolive come radio di supporto di tutto l'evento noi tre vincere siamo qua sul palco, ritorniamo da qui la domenica ovviamente ci atteneremo con gli speaker tecnici che invece entreranno nello specifico sulle discipline ci saranno qua al Motolive dietro a noi, dietro al palco ci ha posizionato il nostro studio grazie a tutti